Buongiorno, sono Valentina Sonzini, presidente di AIB Liguria e bibliotecaria presso la Biblioteca Universitaria di Genova. Oggi leggo ad alta voce il libro di Tolstoi, Anna Carienina, perché anche questo è stato un libro censurato e AIB Liguria partecipa all'iniziativa Libri Salvati 2021, letture pubbliche di libri proibiti. Ecco il mio estratto. Sapete certamente che già una volta ha tentato d'uccidersi per quella donna. E a questo ricordo il viso della vecchia signora si rabboiò. Sì, essa ha finito come doveva finire una simile creatura. Anche la morte se l'è scelta brutta e misera. Non tocca a noi giudicarla, contessa, osservò Sergio Ivanovic con un sospiro. Capisco che avete avuto da sopportare i giorni penosi. Ah, non me ne parlate. Stavo allora nella mia tenuta. mia figlia. Mio figlio era venuto a trovarmi. Gli portarono un biglietto e gli scrisse la risposta e la mandò a mezzo di un servo. Non sapevamo affatto che essa fosse lì, alla stazione. La sera, non appena mi ritirai in camera mia, la cameriera mi raccontò che una signora si era buttata sotto il treno. Non so perché. Sentì come una fitta al cuore. Subito intuì che era lei. La prima cosa che dissi non parlatene a lui. Ma egli aveva già saputo tutto. Il suo cocchiere si era trovato presente e aveva visto. Quando ho corso in camera di mio figlio lo trovai come pazzo. Faceva impressione soltanto a guardarlo. Partì in fretta senza dire una parola. Non so come sia andata alla stazione. Ma lo riportarono a casa quasi svenuto. Era irriconoscibile. Il dottore disse che era una postazione completa. Poi ebbe un accesso quasi di pazzia furiosa. Ma perché parlarne? La contessa fece un gesto scoraggiato. Fu un periodo difficile per noi. No, dite che volete, ma era una donna cattiva. Che cosa sono questi eccessi esasperati? Tutto per dare la dimostrazione di qualche cosa di straordinario. Ebbene, che cosa ha dimostrato? Ha rovinato se stesse due uomini eccellenti, suo marito e mio figlio. E suo marito? Domandò Sergio Ivanovich. Si è preso la bambina. Aglioscia nei primi tempi non era capace di ragionare e ha ceduto. Ma ora si tormenta ad aver abbandonata un estraneo la propria creatura. Però non può ritornare sulla sua parola. Carienin è stato ai funerali. Abbiamo cercato che non si incontrasse con Aglioscia. Per il marito è stata una soluzione. Quella donna l'ha liberato. Ma il mio povero figlio si era dato tutto a lei. Aveva abbandonato per lei ogni cosa. La carriera, me, sua madre ed essa gli ha dato l'ultimo colpo senza la minima pietà. No, avete un bel dire. La sua fine è stata la fine di una donna a biette senza religione. Dio mi sia giudice, ma non sono capace di non odiare la sua memoria quando vedo la disgrazia di mio figlio. Anna Carienina Leve Tostoi. Libri salvati 2021.